Innanzitutto l'amore e l'appartenenza a questa terra, a questa bellissima regione, la consapevolezza che ognuno di noi deve fare la sua parte, serve un impegno costante insieme anche alla forza, alla spinta, all'energia che ci stanno trasferendo i cittadini. Sono in tanti che stanno lavorando insieme a noi in questo impegno, in questa voglia di coinvolgimento che ci vede tutti i protagonisti nel cambiamento, nel voler dare un futuro a questa regione insieme ai partiti, a tutti coloro che stanno avendo fiducia in questo momento nella mia candidatura, nel mio impegno, ma il lavoro che si farà sarà proprio un lavoro di squadro, un lavoro in cui darà la possibilità a tutti di poter essere determinanti nelle scelte e nel futuro di questa regione. Essere sindaco di una comunità spesso significa essere anche il front office della disperazione della gente, questo ti porta ad avere un contatto continuo con i cittadini che per me è stato fondamentale e determinante per fare bene il sindaco e bene il presidente della provincia. Continuerà questo impegno tra la gente, tra i cittadini, in tutto il territorio della regione Basilicata, sarò un presidente che sta tra la gente e che vive questa terra, con l'obiettivo di lavorare tutti insieme proprio per dare un futuro, anche grazie all'esperienza amministrativa passata, utilizzare questa esperienza virtuosa nel voler migliorare questa bellissima regione. Abbiamo la consapevolezza di ereditare una situazione difficile, drammatica, proprio per l'assenza di programmazione e di impegno nei passati cinque anni. Abbiamo però tutto il lavoro nel voler costruire le basi per migliorare sicuramente i temi che affronteremo, sono tanti, dalla sanità, di sessore geologico, viabilità, turismo, industria. Un lavoro importante che ci vede sicuramente consapevoli di continuare questo dialogo col territorio, ma di portare le nostre proposte su tutti i comuni di questa regione.